Ciao a tutti amici, in occasione del traguardo di iscritti ho deciso di fare una seconda cosa ovvero una cover che avevo voluto portare e che mi sarei imparato totalmente con calma ebbene ebbene si, oggi vi ho una bella portata è Golgotha dei Wasp quindi scrivetevi sotto nei commenti quanti di voi amano i wasp quindi sigla e vi lascio la cover, ciao ragazzi Grazie 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501